Ben ritrovati alla TGLIS della Giunta regionale di Basilicata. La Giunta regionale ha deliberato l'istituzione di una commissione ispettiva sulla sanità lucana. Si impone la necessità di avviare un'indagine regionale al fine dell'adozione di eventuali provvedimenti. L'attività della commissione andrà a supportare gli esperti inviati presso l'ASL di Matera dal Ministro della Salute Giulia Grillo con il compito di accertare se siano stati commessi reati contro la pubblica amministrazione e ci siano impedimenti nell'erogazione dei servizi sanitari ai cittadini. Servizi in ambito turistico, sportivo, ricreativo e sociale a contrasto dello spopolamento delle aree interne. Con altri 2 milioni di euro il PSR Basilicata sosterrà 11 progetti dei comuni e delle aggregazioni di comuni. Lo dichiara l'assessore alle politiche agricole e forestali Luca Braia. Un totale di 32 comunità rurali potranno finanziare per complessivi 6 milioni di euro investimenti finalizzati allo sviluppo di itinerari turistici e ricreativi per la fruizione e la valorizzazione del territorio. Si è svolta in Regione la prima conferenza di consenso tra Istituto Superiore di Sanità, ARPAB, le Fondazioni Ambiente e Ricerca Basilicata e Basilicata Ricerca Biomedica. I CNR, l'Università e i ricercatori guidati dal professor Fabrizio Bianchi. La finalità dell'incontro, dichiara l'assessore all'Ambiente ed Energia Francesco Pietrantuono, e di trovare una posizione sulle ricadute emissive del Cova. La nostra bussola ha aggiunto è rivoluzionare definitivamente il sistema di monitoraggio e dare un punto di certezza ai cittadini di quell'area. Tutti gli 87 progetti dell'Avviso Pubblico Ricettività di Qualità saranno finanziati. Lo ha comunicato l'assessore alle attività produttive Roberto Cifarelli. La Giunta regionale ha deciso di aumentare la dotazione finanziaria del Bando. In questo modo passa a 26,07 milioni di euro. Con tale aumento sosteniamo, ha detto Cifarelli, tutti gli 87 interventi, favorendo la creazione di nuovi posti letto, dei quali 120 solo nel Comune di Matera, e valorizzando le principali destinazioni turistiche regionali, anche in vista dell'avvicinarsi dell'evento Matera 2019 Capitale della Cultura. Dopo due anni di applicazione, sono stati presentati in Regione i risultati del progetto web-lucano denominato Terap. È importante sapere che le reazioni avverse da farmaco rappresentano la quarta causa di morte nel mondo, ha spiegato l'assessore Franconi. Quindi la riduzione di queste reazioni porta ad un miglioramento della salute. Con questo progetto si riducono le reazioni avverse da farmaco e anche i costi della sanità. Ed era questa l'ultima notizia. Grazie a quanti ci hanno seguito. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.